buongiorno a tutti allora giubbino nera azzurro il nera azzurro e qua perché dobbiamo parlare di questo inter atalanta 4 a 0 naturalmente ci saranno i soliti è che non l'annullato per nulla vanno l'atalanta avrebbe la tanta ha fatto quello perché i primi 15 minuti l'inter non ha giocato erano scazzati mi sembravano gli old boys quando giocano contro la squadra di calcetto di bisio in amore bugie calcetto no poi sotto 2 a 0 per gli altri l'allenatore lì degli old boys che era mai freddi che si è prestato per fare questo film fa ragazzi vogliamo cominciare a giocare è finita 10 a 3 per gli old boys ecco mi è sembrato uguale la partita no che in zaghi ha detto allora vogliamo iniziare a giocare 4 a 0 mi sembra di vedere le partite quando gioco alla playstation a livello amatoriale perché già se vado a livello appena superiore io faccio ridere qualsiasi gioco anche solo la play 1 quindi odyssey's football fifa 2000 2004 2005 se non sbaglio ne ho 4 5 dei giochini del calcio delle ere passate mi sono fermato la play 1 c'ho solo quella mio amico fai gg mai ancora la playstation 1 si c'ho ancora la playstation 1 con una miriade di di cassette 20 più di 20 credo di averne però c'ho quella non sono stato a prendere la play 5 che poi devi andare a comprare devi fare devi brigare la cosa su internet non ci gioco mai ragazzi mi piace averla perché ogni tanto magari potrebbe venirmi anche voglia di però siccome preferisco fare video su youtube che starà giocare alla playstation per ora faccio quelli poi magari chi lo sa il futuro è un'ipotesi tanto io cercherò di essere sempre diversamente giovane anche quando lo sarò sempre meno ma non per questo non scappo i miei doveri e ci mancherebbe non sono infatti continuo a dirvi che non vedo l'ora che mi chiamino per confermarmi che faccio ancora la stagione al ristorante però visto quello che è successo capisco anche la situazione e quindi attendo non sto a rompere i testi inter atalanta si è dormito all'inizio quindi abbiamo permesso questo pseudo gol presunto gol ma volare o se il braccio è largo è largo ragazzi in italia il braccio è largo fischiano in europa stanno lì a guardare no ma forse era congruo non era congruo era così e però era un cross però era un tiro però e poi anche in europa li fischiano a cazzo da perché dicono no ma in europa quei grigori di non si fiscano poi vedi due episodi uguali uno lo fischia l'altro no a seconda anche della squadra a cui lo devi fischiare contro per quello se e sottolineo se come tutti si auspicano passiamo il turno con l'atletico madrid io il real madrid non lo voglio vedere fino alla finale perché se beh che il real madrid è già è già scontato che vai a casa vinci 4 a 0 in casa te lo ribaltano fanno in modo di ribaltartelo bene so qualcosa o giochi la prima a madrid e porti a casa un risultato umano la sconfitta 2 a 1 un 1 a 1 a culo e allora forse della gara di ritorno eccetera magari ce la fai ma se devi giocare a madrid ciao quindi il real se lo ripeto se passiamo perché io non faccio il fenomeno figurati con l'atletico modrice io fly now come si dice no anche adesso 12 link finché la matematica non mi dice che lo scudetto in saccoccia fly down poi c'è quelli che sognano che al 21 di aprile hai già 16 o 18 punti di vantaggio sulla sulla seconda perché così poi se vinci il derby con il milan di mattina mia preoccupazione è l'opposto che ce l'abbiamo già in tasca lo scudetto e magari ci abbiamo da fare le partite di champions e glielo regaliamo perché magari al milan servono quei punti lì perché chi lo sa mai che atalanta e bologna o altre squadre soli e gli sono lì addosso pronti a carpirli non solo il terzo posto ma addirittura a spedirli al quinto quindi non si sa mai vedremo c'è tempo manco un mese e mezzo quindi tutto può succedere poi ragazzi miei l'inter è squadra pazza l'inter ha le stesse probabilità di vincere la chance che di perdere lo scudetto perché squadra pazza è capace magari in campionato di perderne 5 di fine in champions andare al madriano con l'atletico a vincere prende il city va a vincere 2 a 0 in inghilterra e 4 0 in casa poi il semifinale che ne so va a prendere non dico real madrid ma il bayern monaco e va a vincere 2 a 0 in casa del bayern e 5 a 0 in casa poi gioca con il real madrid e gliela fotono perché varo non var gliela fotono quindi è squadra matta ne sappiamo qualcosa quindi stiamo schisci stiamo giocando bene un piacere vederla giocare poi il problema dell'inter è che creiamo tanto e segniamo poco anche oggi lautaro sbagliare anzi ieri lautaro sbaglia riguardo ha dato sul dischetto detto tanto lo sbaglio non è capace non sei capace di battere i calci di rigore c'è un portiere in casa che impara rigori tu cosa fai ti metti sul rischio dischetto tu e lui e ti fai un'ora di calci di rigore finché non arrivi a una percentuale il consumer del 80 per cento dei gol quindi tiri 10 rigori 8 gol 20 rigori minimo 16 gol 30 rigori minimo 24 gol tu i rigori non li tiri più perché non puoi sbagliare un rigore tutte le volte a parte che fai bestemmiare il poveraccio che ti ha il fantacalcio perché di ciò che bello ha segnato lautaro noi rigore sbaglia zero e lo prende nello svrang io non ce l'ho lautaro cioè i miei ciò turame e cinque scappati di casa tra cui sulle che è l'altro che mi dà qualche piccola soddisfazione ogni tanto perché poi tra gli altri quattro c'è dico gonzale sono altro che sbagli ai rigori poi ho il noslin di a dodi allo dallo dato violo tenuto mi sembra che ce l'ho ancora di a e poi un quarto che non mi sovviene vabbè non fa niente certo il centrocampo è da libidi nella nella difesa da libidi cioè portieri che vanno a clean sheet che è un piacere però se non mi segni comunque stiamo su inter atalanta ragazze allora dopo aver fatto il curucu che abbiamo preso gol da de ketalera meno male c'era il fallo di braccio che non ho capito come ha fatto a non vederlo perché sì cioè se tu sei il guarda linee e c'è la prospettiva ai davanti tutta l'area di rigore di traverso vedi iupi duel no non segnalano ma servono tubo segnalano solo i palloni che sono usciti che non sono usciti aspetta tanto c'è il bar che poi dopo la gente ma guarda linea alzata una bandierina allora finché l'arbitro non fischia tu devi proseguire c'è il bar che anche lì no no ma allora il bar c'è gente competente poi naturalmente ripeto ci sono situazioni in cui qualsiasi decisione prendano al bar è sbagliata dai rigore hai sbagliato non lo dai hai sbagliato uguale perché sono situazioni borderline in cui qualsiasi decisione prendi è sbagliata a secondo dei dei pareri o se lo a secondo di perché 50 50 è come tirare la moneta in certe situazioni non è come il fuorigioco il fuorigioco teoricamente non lo dovrebbero sbagliare poi dopo se vogliono fare la furbata anche lì basta far partire il pallone mandare sul fotogramma un attimino dopo e poi mettere un giocatore in fuorigioco meno perché capite che quando è che devi decidere che il giocatore passa la palla quando la tocca o nel momento in cui la palla non è più attaccata al piede ci sta e sta andando perché anche solo quel fotogramma di differenza può mettere un giocatore in gioco non in gioco e quindi anche lì una minima percentuale di errore ci può essere mai minima poi alcuni casi è veramente plateale il fuorigioco non puoi dire nulla ma tante volte proprio la spalla perché questa è così se tu c'è il braccio avanti no perché col braccio non puoi fare gol se la tua spalla tu hai le due braccia perché stai correndo quindi puoi avere le braccia in avanti però queste non puoi segnare se però hai queste più avanti sì perché comunque uno con la spalla può colpirla da qua buttarla in porta però si calci di rigore ragazzi c'è c'è poco da fare quindi dopo la sfugliatina eccetera eccetera l'inter si è messa a giocare sembrava di vederla prestigio tutto 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 poi va bene carne secca che è uscito allora tu esci per bloccare il pallone poi lo lasci lì ma di piuttosto non uscire base paura di uscire dall'area di rigore che poi ti buttano fuori vai di piede lui è andato giù con la presa bassa poi si è reso forse conto che se teneva il pallone sarebbe uscito dall'area di rigore poi lì è espulsione perché quando il portiere prende la palla fuori dall'area è sempre rosso non ho capito perché ma è sempre rosso se fa fallo in area di rigore quasi sempre giallo ma se esce col pallone dall'area di rigore fermando una pseudo azione pericolosa è sempre rosso quindi lui l'ha lasciata big italia ha avuto il guiso di spostargliela senza toccare il portiere è buon darmian non poteva sbagliare poi guardarmi ha si è mangiato un gol va bene anche lui non ho capito perché andato di tu sempre questi tiri di piatto sempre si tiri di pallone arriva di collo pieno perché se tiri di piatto viene una ciofeca che il portiere para e non ha forza tu tiri una bella mina di collo pieno di cattiveria portiere si sposta perché sennò la manina fa strapete e trovi le dita nella porta invece no al piattone il portiere la respinta poi dopo c'è stata l'occasione per lautaro che gli è già arrivato nel messaggio dalla lipa perché ha ucciso il piccione attirato ha preso il piccione multa mille euro di multa per un omicidio del piccione poi giustamente per farsi perdonare si è inventato il gol alla carline con carne secca che non se ne neanche cosa poteva fare c'è il difensore davanti la palla passa di fianco al difensore prende l'effetto a mezza luna quindi sembra che vada fuori poi rientra e finisce nell'angolino ciao non la prendi non la calcio di rigore perché anche lì il guarda linee vede lucio le per farfalle o farfalle per lucio le per che dir si voglia anche se non erano le farfalle lanterne per la per farlo per per lucio le vale quello che era non mi ricordo più come era la battuta della però vede un pallone fuori che fuori non è cross solito braccio largo perché non imparano mai a fare i pinguini quando vanno è no perché sennò magari mi prendo nelle palline mi faccio la bua allora teniamo metti le mani davanti no non vuoi metterle dietro le metti da ti metti lì così con le mani sui maroni no sempre yuppidù yuppidù lo sanno fallo di mano ma vita rigore che tanto qual è comunque è stato bravo il buon di marco a fare la mezza luna prima di entrare in area di rigore in modo che è entrato preciso e anche lì sono andato a rivedere al varsa era entrato prima o dopo e si vede proprio che lui fa la mezza luna e quando entra l'autaro ha già calciato come al solito al tiro perché non li sa tirare come alto belli quelli sono i rigori che tirava alto belli né più né meno io continuo a dirlo lui è anche se le caratteristiche sono diverse spillo era più alto la colpiva sempre di testa segnava un sacco di gol di testa eccetera ma per la caratteristica di sbagliare i calci di rigore l'autaro è perfetto infatti io c'ho il terrore in champions o anche in coppa italia l'anno prossimo di andare ai calci di rigore perché noi a parte c'ha la noglu non ce n'è uno che quando va sul dischetto dico vabbè lo tira lui sono tranquillo no non ce n'è uno forse arnautovic sarebbe ora di farli tirare ad arnautovic il nazionale li tira non li sbaglia almeno li fai segnare e anche oggi arnautovic non ha fatto niente non gli è arrivato un pallone dateglielo qualche pallone in mezzo eccetera non è arrivato uno hanno fatto tutte le azioni dalle fasce eccetera con poi azioni solitarie o che cosa poi qualche cross è arrivato ma quando lui era o erano sbagliato era indietro c'erano 3000 difensori o sennò partivamo con l'azione palla bassa e però non ha fatto male sanchez entrato sembra trottolino innamorato sta facendo sta facendo molto 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 bene sarà che entra in campo con già con con la voglia poi gli avversari sono ormai caputo come si suol dire e quindi è abbastanza libero di fare quello che vuole senza che gli facciano un pressing esagerato eccetera eccetera sarebbe interessante vedere un sanchez che entra con la partita ancora magari sullo 1 a 0 sullo 0 a 0 se riesce a essere così predominante come sta facendo rispetto agli anni passati e che volava lo toccavi dentro e lui però volava comunque poi vabbè è arrivato anche il gol del buon frattesi il guaio che si è fatto male perché io logicamente al fantacalcio li sto perdendo tutti non ho turam non ho frattesi che settimana scorsa mi ha regalato gioie inutili però mi ha regalato gioia oggi giustamente politano meglio ieri politano partitona col napoli che gioca tennis col sassuolo come ho goduto come ho goduto sei per al sassuolo adesso spero che domenica al bondosli faccia anche lui tripletta come il buono simena al sassuolo è che bello sassuolo e non è insieme insieme alla salernitana sarebbe troppo bello mi spiace per il frosinone ma se tu giochi per salvarti non devi metterti a fare quando ti rendi conto che il gioco champagne non ti dà risultati e hai bisogno di punti perché ne sono tre sopra alla zona pericolo magari è meglio se stai schiscio difensivamente parlando ma come ha detto in molti il frosinone non sa difendere sa solo giocare bene a calcio ma non sa difendere e il difensore ce li ha non è che sono così così scarsi però si vede che è un po come il foggia di zema vedremo le prossime come andranno sulla carta c'è una bella squadra e il frosinone piacere vederla giocare ripeto ma siccome io il verona lo voglio inserire anche l'anno prossimo il sassuolo lo vorrà in serie b che così almeno non ci stressa più i testi un addetto in serie b gli farebbe anche bene tanto poi torna subito in serie a anche perché sennò troppe squadre emigliane e il sassuolo e il bologna poi chi c'è d'altro sassuolo bologna aspettate che guardo il classifica o perché sassuolo bologna solo sassuolo e bologna solo sassuolo e bologna si sono sassuolo e bologna poi arriva anche il parma è un po troppo è per i miei gusti parma sicuramente quindi ciascolino tanto c'è il monza a sostituirti a fare il sassuolo c'è il monza però vedremo vedremo anche perché se rientra al bomber armi sassuolo cambia da così a così domenica c'è verona sassuolo il sogno la tripletta di noslin che poi magari non metto neanche in campo perché di nuovo faccio giocare quello la e poi svrang comunque poi è arrivata anche il gol del buon frattesone di testa alla crespo ha segnato un gol alla crespo tutti in anticipo sul primo palo stavo rivedendo una partita la partita di supercoppa rimontata da 0 a 3 a 4 a 3 contro la roma che c'è il primo gol di crespo che di testa in anticipo palla nell'angolino più difficile perché era da più lontano però mi ha ricordato quello ragazzoli niente 4 a 0 poi diranno è ma c'era il gol dell'anni hanno annullato il gol non è giusto eccetera però quello ha fatto l'atalanta poi per il resto ha subito preso il gol come ha detto il buon kato sono addormentati completamente si sono messi di a a scendiletto non ci capivano più una beata giovanna quindi boh non so cosa cosa ci sia da dire stavo parlando con un mio amico del milan fa noi abbiamo dominato contro l'atalanta però abbiamo fatto una 1 voi senza sprecarvi più di tanto quattro gol differenza abnorme poi sulle a o gli faccio è ma lui è fortissimo e qua detto non c'ha voglia ecco io quando sento che un giocatore è svogliato non c'ha voglia prendi una barcata di soldi uno c'hai settantamila persone solo allo stadio a vederti senza contare quelli che ti guardano da casa sei idolatriato da tutti hai la possibilità di avere uomini o donne a secondo dei tuoi gusti sempre a disposizione fai una bella vita se non sei cretino ti metti in posto i soldi per campare di rendita da qua fino ai 90 anni o quello che è certo se ti metti a comprare 12 auto 20 appartamenti e lì sono tutti tutti senza metterli a reddito soprattutto gli appartamenti ci metti un attimo perché poi dopo quando è finito di giocare a calcio soldi che ne minga però se sei minimo oculato tac tac un sesto te li spendi quattro cinque sesti te li metti da parte anno dopo anno dopo anno te sei a posto certo poi dipende come vuoi vivere se vuoi vivere da grandeur ci metti un attimo a sputtanarti quello che ti sei messo via quindi non lo so che motivazioni hanno bisogno di avere e ma non è motivato e ma non c'è mai voglia di giocare però quelle poche volte che c'è voglia si vede che brava si ho capito ma tu c'è uno deve se fa la tata però fai gli assi sono capito ma è una quanti ne fa ne fa 40 perché se fa 40 assi nulla da dire poi anche fare zero gol e 40 assi ste ok ma se nell'arco di un campionato fai quattro gol e 10 assi ma pure perisic che era scazzato faceva andava in doppia cito fra quei gol e in doppia cifra con gli assi e non era leao che fa il cacao e no ma lui deve essere motivato quattro calci al culo vedi come ti motivo vabbè stiamo su sulla partita andiamo a vedere un attimino i voti perché come al solito una noia allora so per gli devi dare ha fatto una parata su su quel tiro lì da da cui è scaturito il gol poi il nulla non più fatto non gli ho visto fare una parata che fosse degna di nota poi la difesa a parte della laggiata che hanno fatto a inizio partita per il resto tutto a posto sei e mezzo a tutti non sto a fare d'armiane di marco segnato tutti e 27 a tutti e due barella ma anche oggi croce delizia però sei e mezzo dai nas lani sei e mezzo mkhitaryan sei e mezzo non è che si sono sprecati più di tanto arnauto vicini dopo gli do sei proprio perché abbiamo vinto e la tara martini e 7 ragazzi cioè poi per quanto riguarda quelli che sono entrati da preso l'ho visto benino però si è visto il spazio di cinque minuti la differenza tra lui e di marco c'è stato un lancio lui è scattato no palla al piede però continua a rimbalzare non l'ha messa giù bene e alla fine il difensore gli è rinvenuto spallatina nulla da dire il calcio il gioco di contatto quindi dove metto certo di nuovo c'era il rigore sud gli è andato lì di spalla la contenuto perché perché non ha messo giù la palla bene era lì che continuare imbalzare dall'altra parte azione molto simile lancio lungo di marco mette giù la palla la mette il proprio la piazza terra prosegue crossa completamente però è entrato bene il bon danfris stranamente quindi nulla da dire quindi sei e mezzo a danfris sei a classe 6 a carlos augusto e sei e mezzo a sanchez perché ve l'ho detto entrato con voglia con piglio si è dato da fare non è che ha fatto chissà che cosa però l'ho visto bello motivato e la cosa mi è piaciuta molto adesso non ne dice intergenoa probabilmente faranno un po di turnover il bon anche perché col fatto che giochiamo per ultimi bisogna vedere come andranno nazio milan venerdì e poi come andrà soprattutto napoli juventus perché ai ragazzi miei qualora domenica sera osimene compagni dovessero battere la juve poi permetterti tranquillamente di fare turnover vedere come va poi nel caso metti dentro le titolari tanto si è visto anche con la domenica prima con il lecce hai giocato con sette titolari fuori cambiano i fattori ma il risultato resta sempre uguale quindi giochi con un genoa che in casa è molto pericoloso ma giocato a san siro puoi giocare anche partire magari con san cesar nautovic e vedi poi eventualmente se inserire il buon turam o un lautaro in caso di necessità perché forse per il genova il buon turam dovrebbe riuscire a rientrare adesso vedremo cosa c'ha frattesi dicono una leggera indolenzimento all'adduttore di quel che è una settimanella di riposo magari fai saltare la partita con il genoa lo tieni pronto abile arruolabile per la partita con l'atletico tra dieci tra dieci giorni no cos'è di più di dieci giorni tra due settimane c'è tempo anche perché questo weekend ragazzi miei ci sono le partite che possono dare delle risposte veri 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 importa perché l'azio milano può dare risposte importante udinese salernitana per la salvezza torino fiorentina è l'ultima occasione per vivere per il toro per cercare di tornare in zona europa perché sennò se perde anche questa il torino può prendere baracche burattini e dire signori noi ce ne andiamo in vacanza perché tanto qua contiamo come il 2 di briscola con 36 punti siamo abbastanza tranquilli per la salvezza e non abbiamo più chance per sperare in un post europeo bonza roma e da libidine bella sfida anche il bonza il caso di vittoria potrebbe fare un pensierino visto che comunque messo meglio del toro se non sbaglio o è dietro date che controllo il bonza no è a pari merito quindi anche per il monza la partita con la roma può dare un senso alla alla questione poi abbiamo le sfide salvezza verona sassuolo frusinone lecce in poli cagliari la super sfida champions che nessuno si sarebbe mai immaginato atalanta bologna in cui le squadre dietro si augurano in un bel pareggio per cercare di recuperare domenica sera libidi del napoli juventus e poi di partitucola intergenoa le tabelle che ha fatto i milanissi si sono rivelato gli juventini o chi per esso si sono rivelate negative un'altra volta perché l'inter con con l'atalanta doveva perdere il milan con l'atalanta doveva vincere invece l'intera stravinto con l'atalanta al bilan srang 1 a 1 e ciao creme quindi non fatele vivete day by day non guardate neanche la partita successiva con cui la dovete fare pensate al presente evitate l'età perché tanto la tabella la puoi fare se sei davanti sei davanti fai la tua tabella perché vuoi mantenere ma se sei dietro tanto dipende dagli altri è inutile che fai la tabella dire no ma quella partita lì la perdo cosa ne sai ti giochi tu fai il tuo vai avanti a vincere senza fare tabelle e vedi cosa fanno gli altri perché se tu devi stare lì a sperare che gli altri perdano ma tu non riesci manco a vincere dire che fai le tabelle dei my day sono terzo mantengo il tarzono secondo mantengo il secondo posto se quelli rallentano devo esparmi trovare pronto ma se non ti fai trovare pronto se vinci la marea di partita al 95esimo e lo dico contro squadra di al quinto posto al sesto no squadra in crisi squadre che sono sotto il decimo posto può capitare e ci mancherebbe c'è sempre la partita che la magari la sfanghi al 95esimo ma quando cominciano a essere su quante ne abbiamo fatte 26 cominciano a essere 6 o 7 c'è un problema c'è una cosa positiva che non molli ma c'è anche la cosa negativa che tu non puoi contro una squadra che ti è nettamente inferiore dalla vincere può capitare ci mancherebbe può capitare perché magari sprechi una marea di occasioni eccetera ma invece cioè io io ventus frosinone francamente cioè affrontavo una squadra un po più forte e gliene spaccava gliene sparava dentro 4 5 era il frosinone che ha fatto la sua buona partita e loro le occasioni le hanno avute c'era anche cero folini e non turati però non è che ha fatto chissà che cosa lì una squadra una difesa che qualcuno ha detto che neanche maradona se riuscise a risuscitasse e avesse nuovamente un'età in cui può giocare a calcio riuscirebbe a fargli gol da quando l'hanno detto hanno preso non so quanti quanti gol io lo continuo state zitti state schisci io stasera ieri sera un po preoccupato perché continuo a vedere troppi elogi all'inter si passa sempre da una adesso in zaghi è diventato un fenomeno non lo cambierei con club non lo cambierei nemmeno con guardiola eccetera l'anno che abbiamo buttato via lo scudetto che doveva manco arrivare quarti tra l'altro non dovevamo ad agosto non dovevamo manco arrivare quarti poi abbiamo buttato via lo scudetto ma è una squadra che manco al quarta doveva arrivare squadra di merda la squadra figurati con sta squadra con i zaghi in panchina dove cosa vuoi fare dove vuoi andare perché meglio ce li ho i messaggini che mi mandavano ce li ho ancora e poi che squadra di merda ha buttato via lo scudetto ma se non dovevi manco arrivare quarto sei arrivato secondo sei giocato lo scudetto fino alla fine ci hai avuto una marea di cagate che hai fatto durante il percorso tra rigori sbagliati go sbagliati partite dominate perse da curucu e rompi le scatole l'anno dopo anche uguale figurati con sta squadra dove andare qua la su giù se arriviamo quarti un miracolo finale di champions altre due coppe portate a casa qualificazione champions blindata alla grande superamento sia nel primo che nel secondo anno degli ottavi del del girone champions con una giornata di anticipo quest'anno addirittura con due giornate di anticipo però rompevano è ma siamo arrivati i secondi è però la seconda preso pari san germain noi abbiamo preso l'atletico madrid più o meno siamo lì è quindi anzi forse gli andata peggio alla real sociedad che non a noi vedremo al ritorno ripeto vedremo al ritorno quindi adesso in zaghi aiuto ce lo portano via io una gran paura ragazzi che in zaghi non succede no come dicevamo l'anno scorso non succede ma se succede senza di quest'anno dovesse fare il tripletino supercoppa campionato champions cazzo resta qua a fare perde le motivazioni ha vinto tutto gli offrono un contratto al city c'è al city no perché era bene in inghilterra al paris san germain o in un'altra squadra big sapete quando perché ci sono squadre che hai vinto la champion come il real madrid no il real madrid non è mai stanco le malvide un pesce cane ha sempre fame di vittoria quindi vinci la c'è nell'anno prossimo e rivincere la champion vinci il campionato l'anno però se vuoi rivincere il campionato ma il real madrid l'inter è una squadra che è pesci e il segno zodiacale anche per le squadre di calcio contano i pesciolini siamo tendenzialmente ci adagiamo sugli allori quando ci riempiono di complimenti diciamo che tiriamo l'acqua al nostro munito no quindi vivi di rendita come si suol dire quindi non vorrei che poi qualora non succede ma se dovesse succedere il tripletino non il tripletone il tripletino supercoppa champions e campionato poi ripeto ho detto se non ho detto sicuramente io anche quando c'è il derby dico io parto dal presupposto che voglio un 2 a 0 ma non dico vinciamo sicuramente 2 a 0 con la bassimile io dico per godere che ho vinto il derby devo vincere minimo 2 a 0 se no non mi dà nessuna soddisfazione hai fatto il tuo dovere ecco per intendo hai vinto 1 a 0 il derby hai fatto il tuo dovere 2 a 1 1 a 0 3 a 2 minimo due gol di scarto se no è come uno che mi porta a casa il 6 si hai preso 6 bravo fatto il tuo dovere minimo sindacale poi naturalmente dipende dal milan quando c'era al milan quello serio quello forte quello del trio olandese e del bio olandese poi arrivato reichard è arrivato dopo prima c'erano va bassene e gulli li ragazzi miei per me perdere contro quel milan era onorevole perché erano più forti c'era un cazzo da dire io a differenza dei milanisti non ho problemi loro no teo hernandez è più forte di di marco quello lì è più forte di e 5 a 1 gli ultimi derby parlano chiaro ne hanno vinto uno per grazia ricevuta perché ci avevamo mezza squadra col covi poi basta parlano giusto hanno vinto il derby quello da pirla dove hanno hanno subito per 80 minuti poi siamo stati i coglioni noi e vabbè quando se non è babbaleo è giusto che venga babbaleato è quindi capita a noi capita sempre è un classico ma sempre capita quindi curucu però ripeto non mi metto a fare il fenomeno vinceremo sicuramente o che cosa io dico per me per godere devo vincere 2 a 0 con questo milan non con quello la con questo però è un derby può succedere di tutto ragazzoli niente più 12 più 16 la classifica dice tutto la classifica dice adesso che finalmente tutte le squadre hanno giocato 26 gare la classifica chiara precise eccetera dice inter 69 juventus 57 milan 53 bologna 48 21 punti sulla quarta 23 punti sulla quinta non abbiamo ancora la matematica certezza di essere in champions l'anno prossimo servono una quindicina di punti per stare tranquilli step by step poi penseremo anche allo scudetto però intanto un altro steppettino sarebbe la matematica certezza della qualificazione champions poi piano piano perché correre piano piano step by step come dicevano in una canzone da passo dopo passo poi altra cosa basilare i quarti di finale di champions vedremo come andrà a madrid io francamente dopo aver visto l'atletico giocare quel poco che ho visto contro l'almeria non so se hanno mente la champions ormai il campionato è andato poi meglio che non facciano troppo come dicevamo una volta quando ero alla in colonia dove c'era la fotina del mio la fotina che vedete che sono lì che passa il palleggio o 13 anni eravamo in colonia l'aloano da quelle parti di comunque il libro tra la liguria e la toscana più o meno e dicevamo sempre non fare troppo lo sgarzellino ecco quindi dove metto a fare lo sgarzellino che cosa step by step stiamo un fly down vogliamo bassi tranquilli quindi io ho visto però le altre sono vicine se non sta attento perché l'atletico e quarto quindi prima che pareggi con l'almeria fai un altro pareggio con un'altra squadra le altre tra che te l'atletico bilbao in companies ma un e poi ti trovi quinto e poi devi sperare che le spagnole facciano bene perché sennò la quinta se ne va in europa league non in champions visto che si dà per scontato che una la prima saranno quelle inglesi e poi l'italia se la deve giocare con germania in spagna al secondo posto comunque stavo dicendo la classifica alla pari 26 partite tutte 69 leader 57 la juve 53 milan 48 il bologna 46 l'atalanta 44 la roma 41 la fiorentina 40 napoli e lazio e 36 torino e monza prossimo weekend c'è le sfide importanti con torino e monza che proveranno a recuperare per avere l'ultimissima hanno l'ultimissima chance per riportarsi in zona europa se vincono riaprono il discorso se pareggiano perdono penso che oramai si devono accontentare di una salvezza straraggiunta sta tranquilla eccetera eccetera il genoa non ha più gran che da chiedere la classifica gli bastano 7 8 punti per stare tranquilla alla bellezza di 13 punti di vantaggio sulle terz'ultime quindi è vero che ci sono ancora 36 punti disponibili e tutto quanto però vedendo quanto stanno andando le squadre che lottano per non retrocedere penso che solo un suicidio tecnico tattico nel senso il genoa fa più un punto da qua alla fine del campionato il genoa in serie quindi tranquillo scusate il bronco di riace poi ragazzoli e ci sono le squadre che lottano per salvarsi c'è l'empoli a 25 nicola ultime cinque partite due vittorie tre pareggi libidi 9 punti e l'empoli in un attimo si è riportato in tredicesima posizione cinque punti sopra alle terz'ultima poi c'è lecce quattro punti sopra le terz'ultime che è tranquillo ma mica troppo poi udinese frosidone a 23 attenzione e poi ci sono le tre cagliari sassuolo e verona che sono a 20 punti con il sassuolo che avendo preso sei pere adesso c'è una differenza reti peggiore di quella che aveva prima e quindi finisce lui col cagliari in serie b assieme alla salernitana e il prossimo weekend c'è verona sassuolo c'è il cagliari che gioca che anche lui una partita difficile quindi cagliari salernitana no è la ventottesima sono data la ventottesima udinese salernitana frosidone lecce empoli cagliari verona sassuolo queste sono quattro sfide che potrebbero rivoluzionare completamente la lotta salvezza l'empoli che mi batte un cagliari chiude quasi blinda tra virgolette la salvezza perché si porterebbe addirittura 8 punti sul cagliari e poi vediamo cosa fanno le altre verona sassuolo ragazzi miei il pareggio non serve a nessuna delle due il verona dovrà giocare per vincere il sassuolo no forse sassuolo un pareggiotto potrebbe anche accoglierlo volentieri frosidone lecce una sfida tra due squadre che potrebbero tra virgolette accontentarsi del pareggio visto che hanno qualche punticino in più sulle altre e poi c'è empoli cagliari a udinese salernitana occasionissima per l'udinese per benare le tolle quindi non è definitivo e non è che se il verona abbatte il sassuolo sarà sicuramente salvo il sassuolo va in serie b però cominci ad allontanarti leggermente ma è ancora lunga viceversa la vittoria del frosidone sulle lecce una vittoria dell'empoli sul cagliari o viceversa la viceversa no perché il cagliari vorrebbe dire mettere in ambasce l'empoli e rovinargli tutto quello di buono che ha fatto perché si ritroverebbe ancora in piena bagarre ma una vittoria dell'empoli sul cagliari più 8 su sul cagliari su una tra verona e suolo perché se una delle due vince sono tutte due a 20 se pareggiano un l'empoli va più 7 comunque vabbè non sono questioni nera azzurra noi siamo a più 12 siamo più 16 sul mila continuo a vedere una già una squadra che gioca bene non deve fare avere sti cali di tensione entrare in campo molle perché oggi meglio ieri ieri sera i primi 10 15 minuti sono entrati in campo molli sembravano appunto gli old boys contro la squadra di ibisio a calcetto poi probabilmente zaghi avrà detto ragazzi allora vogliamo cominciare a giocare e non c'è stata più partita e ricordiamoci che il verona il verona l'atalanta arrivava da otto vittorie due pareggi nelle ultime dieci e non è che era in ambascio che cosa non era il sassuolo che in questo momento non so cos'è servito cambiare l'allenatore non so francamente cos'è servito cambiare l'allenatore io ho visto una difesa che fa piangere in tutte le cioè vedi giocare il cagliari almeno ci mette l'anima magari è più scarso del sassuolo non me ne vogliano i tifosi del del cagliari ma ci mettono impegno ci mettono cazzino restano attaccati alla partita con le unghie con i denti lottano non fanno c'è da buttare la pallone tribuna o butti in tribuna non stai via fare i passaggi di in area di rigore che poi perdi la palla sei in difficoltà via palla in tribuna chi se ne frega sassuolo due gol li ha regalati perché errori difensivi palla passata all'attaccante letteralmente in due gol proprio sono arrivati così per per l'errore della difesa che sbaglia sbaglia il passaggio per la partire dal basso lancio lungo e vi andare cagliari la differenza la vedete cagliari napoli sassuolo napoli 11 16 certo non può dirvi e ma hanno pareggiato hanno fatto in modo che il napoli anche se aveva delle occasioni doveva forzare il tiro da e sbagliarlo viceversa al sassuolo andava una botta sicura va vera gasoli vedremo domenica alle 12 e 30 questo verona sassuolo come andrà noi fino a lunedì siamo tranquilli lunedì forse vado al bar a vederla o sto a casa dipenderà dal buon il buon alan cosa decide di fare non saprà dire comunque poi domenica lunedì tanto non è un problema la vedo a casa o ora vedo al bar vi saluto vi ringrazio perché come sempre mi sono dilungato troppo e naturalmente ci vediamo alla prossima vi dico sinceramente mi sembra di giocare alla playstation a livello amatoriale vedere giocare l'inter sembra di stare a giocare alla playstation a livello amatoriale giocano giocano che è un piacere però non devono avere stesse dormite iniziali entrare in campo scazziatelli perché non sempre trovi la squadra che ti poi vabbè tanto poi si risvegliano e non c'è più non c'è più trippa per gatti detto questo ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao